Giorgio Napolitano dovrà testimoniare nel processo trattativa Stato-mafia. Ieri a Palermo i giudici della Corte di Assise hanno accolto la richiesta della Procura ed hanno autorizzato la citazione del Capo dello Stato. Nei limiti si precisa nell'ordinanza fissati dalla Corte Costituzionale. In sostanza i giudici hanno fissato dei paletti. Napolitano sarà sentito esclusivamente su un episodio. Le preoccupazioni espresse in una lettera datata 18 giugno 2012 dal suo consigliere giuridico Loris D'Ambrosio, morto pochi giorni dopo per un infarto. In quella lettera D'Ambrosio, riferendosi ai fatti di mafia dei primi anni 90, esprimeva il timore di essere stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi. A quali indicibili accordi si riferiva D'Ambrosio? I PM vogliono chiedere a Napolitano proprio questo, qualcosa in più su quella lettera e su quello sfogo. In ogni caso, secondo quanto prevede il regolamento, Napolitano non dovrà recarsi nell'aula del Palazzo di Giustizia, ma sarà la Corte, i magistrati ad andare a colle. Ammessa anche un'altra richiesta della Procura, la trascrizione delle conversazioni telefoniche tra Loris D'Ambrosio e l'ex ministro degli interni Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza. Tra i testimoni sarà sentito anche il presidente del Senato, Pietro Grasso. Valuteremo l'ordinanza nel massimo rispetto istituzionale, e commenta in una nota il Quirinale, perplessa sulla decisione della Corte d'Assise, la ministra della Giustizia, Cancellieri, che l'ha definita inusuale. Cancellieri ha poi precisato, però, di non aver letto le motivazioni. Prima vorrei documentarmi, ha detto.